Quali sono gli studi più importanti presentati qui a Barcellona al congresso della European Society for Medical Oncology, l'ESMO, e quali le novità più interessanti per quanto riguarda il trattamento del melanoma? Noi ce lo siamo fatto spiegare da uno dei massimi esperti di questa neoplasia, il professor Paolo Ascerto. Allora professore, qui a l'ESMO sono stati presentati i dati a 5 anni dello studio Checkmate 067 pubblicati anche sul New England Journal of Medicine, uno studio che praticamente ha fatto la storia dell'immunoterapia nel trattamento del melanoma. Ci racconta un po' in sintesi che studio era ma che novità portano i dati di quest'anno? Allora lo studio è uno studio che è partito diversi anni fa e il dato di quest'anno più che una novità è una conferma perché ci dici che a 5 anni con la combinazione il 52% dei pazienti è ancora vivo, a fronte di un 44% con il nivolumabimmonoterapia. E il dato è molto importante perché? Perché noi abbiamo sempre detto che la metà dei pazienti con melanoma possono essere curati, e questa era praticamente una proiezione, ma adesso abbiamo il dato. Il dato c'è, è vero, la metà dei pazienti con melanoma può essere curato. Ecco, poi ci sono anche novità importanti per quanto riguarda invece il trattamento del melanoma in uno stadio più precoce della malattia. In particolare abbiamo avuto i risultati dello studio Checkmate 238, che è uno studio che riguarda appunto la terapia adiuvante. Di che studio si tratta e che risultati sono emersi? Allora, lo studio Checkmate 238 è uno studio che compare al nivolumab dato per un anno, un trattamento adiuvante in quali pazienti? Nello stadio 3B, 3C e anche quarti resecati. ed è stato paragonato all'ipilima, quindi un braccio di controllo attivo, dato a 10 mg-kg ogni tre settimane, quattro cicli più mantenimento, anche questo durata un anno. Più di 900 pazienti arrolati, 453 per braccio, e quest'anno abbiamo portato un aggiornamento dei dati in termini di relapse-free survival, che poi è stato il main endpoint, siamo ancora in attesa dei dati di overall survival. Ma a tre anni si è visto che il 58% dei pazienti è ancora relapse-free. Questo in confronto al 45% del braccio con ipilimumab. Questo significa in termini di riduzione del rischio un 32% di riduzione del rischio di progressione, non male, indipendentemente dal BRAF, dal PD-L1, sia nello stadio 3 e 4. Sono dati molto interessanti e anche l'altro dato che è stato riportato è quello in termini di distant metastasi e frisura, cioè l'occurrenza di metastasi a distanza. La mediana è ancora stata raggiunta, ma nel braccio del nivolumab meno metastasi a distanza. La zarrecio 0,78, che cosa significa? Un 22% di riduzione del rischio di fare metastasi a distanza. Dati interessanti. Un altro studio importante, sempre sulla terapia adiuvante del melanoma, è lo studio Immuno-NED. Di che studio si tratta e che dati sono stati presentati? Questo è forse lo studio che ha suscitato più interesse all'esmo. È uno studio tedesco che è stato fatto in una popolazione particolare, la quarta, considerata anche nel checkmate 238, ma resecata, come nel checkmate 238. È uno studio che ha previsto tre bracci, 60 pazienti per braccio, quindi non è stato uno studio con molti pazienti, è stato un fase 2 randomizzato, ma è interessante perché? Perché andando a vedere come si è comportata la combinazione, rispetto al placebo e rispetto al nivoluma, perché era un braccio o tre braccio, c'è stato un zarrecio di 0,20 rispetto al placebo, quindi un 80% di riduzione del rischio, e 0,40 rispetto al nivoluma, quindi un 60% di riduzione del rischio. Certo, c'è stata la tossicità, ma questi dati così importanti fanno sì che per questi pazienti ci possa essere un'opzione importante. La domanda è sempre se noi abbiamo bisogno di resecarli o no, però in questo momento, se c'è una resezione nello stadio quarto, è chiaro che questa combinazione può avere un futuro e potrebbe essere practice change. Ecco, poi c'è uno studio interessante che è lo studio Trident, che ha combinato l'immunoterapia con gli inibitori delle tirose inchinasi, quindi i farmaci target, i farmaci a bersaglio molecolare. Che studio è, che cosa emerge e perché è importante? Allora, è uno studio molto interessante questo. L'anno scorso abbiamo riportato i dati di una tripletta da brafini, trametano e pembrolizzo, uno studio randomizzato, e ci sono ancora molte domande, perché lo studio ha fatto vedere il Kenote 0,22, quello di cui ho parlato l'anno scorso, un'interessante progression-free survival, ma poi in termini di over survival non ci hanno dati così convincenti a scapito di una tossicità importante. Perché questo trial è interessante? Sono 26 pazienti che sono stati analizzati, però è interessante perché hanno arrolato pazienti che avevano metastasi cerebrali, che non sono mai stati arrolati, e pazienti che avevano fallito gli anti-PD-1 prima. Quindi è una popolazione diversa, perché poi la domanda è, ma non è che questa combinazione può andare bene nei pazienti che hanno fatto già qualcosa, oppure in quelli peggiori come con le metastasi cerebrali? Ebbene, il dato interessante è perché nei pazienti con le metastasi cerebrali si è avuta praticamente la stessa performance rispetto ai pazienti che non l'avevano. Uno, non solo, ma nei pazienti che avevano già fatto anti-PD-1 la tripla comunque ha dato dei risultati interessanti. Questo va in quella direzione quindi, cioè che questo trattamento potrebbe aggiungere qualcosa in coloro che hanno già fatto qualcosa oppure che hanno una malattia peggiore. Ecco, in sintesi, che messaggio possiamo dare da questo ESMO ai pazienti con melanoma e anche ai medici che li curano? Allora, conferme importanti. Conferme importanti in termini di beneficio a lungo termine. Abbiamo la conferma che la metà dei pazienti può essere curata. Ovviamente dobbiamo fare di più per quei pazienti che non riescono ad avere questo beneficio. Una delle cose è cercare di trattarli precocemente per aumentare il beneficio. L'adiuvante. Abbiamo avuto una conferma con gli anti-PD-1. C'è questo dato interessantissimo della combinazione nei pazienti poi peggiori, cioè quelli che hanno avuto un intervento per metastasi, dato molto interessante. E poi ci sono le altre combinazioni come questa tripla, come diciamo altre nuove, per cui la possibilità di aumentare questo 50% ritengo che sia una realtà. Dobbiamo solo aspettare i dati, ma sono sicuro che avverrà.